La letteratura non è mai male, difficilmente, almeno la grande letteratura non è mai male. La letteratura rappresenta il male, conosce il male, attraversa il male, ma non è mai male e la letteratura è l'unico modo per poter contemplare il male senza essere bruciati. A 25 anni Pietro Citati era già un prestigioso e temuto critico letterario, scriveva per il quotidiano Il Giorno. Nel 1970, a 40 anni, pubblicò il suo primo libro Goethe e così gli scrisse Italo Calvino in una delle lettere dell'Epistolario pubblicato in questo periodo dai Meridiani. Aprendo sempre nuovi spazi interpretativi e immaginosi dai minimi suggerimenti del testo, moltiplicando il testo, fai questa che forse è la sola letteratura possibile oggi, insieme critica e creativa. Il suo ultimo libro, Il male assoluto, dedicato alla letteratura dell'Ottocento, è stato per molte settimane in testa alla classifica dei libri di saggistica. Il perché, prova a spiegarlo nella sua intervista e che gli abbiamo fatto nella sua casa romana, Pietro Citati. Senta, la critica letteraria è il genere letterario più noioso che esista. I miei libri ho l'impressione che siano un pochino meno noiosi di quello che è di solito la critica letteraria, è tutto lì. È una questione di noio o di meno noio. Poi parlo della letteratura come se fosse una cosa che esiste, che c'è, l'essenza stessa della vita, non ne parlo come di una cosa morte, polverosa, come di solito fanno i casi letterari. Perché ha scelto per rappresentare il male assoluto l'Ottocento? Perché prima il male assoluto, non si chiamava male assoluto, si chiamava Satana, semplicemente. Quindi questi scrittori non parlano mai di Satana, parlano del male, che è un'altra cosa. Cioè non c'è più il fondo religioso e teologico del male. C'è il male in sé, in primo luogo. E poi in secondo luogo nessuno scrittore cristiano di qualsiasi religione ha mai abitato dentro il male, dentro Satana. Chi ha rappresentato i pensieri di Satana? Beh, Milton, un Satana estremamente particolare. E invece nell'Ottocento accade questo fatto straordinario che gli scrittori entrano dentro il male, vivono dentro il male, guardano con gli occhi del male. Pur non essendo essi stessi male, sicuramente. Secondo lei, nel nostro secolo, come si presenta il male assoluto? In questo secolo di male assoluto si è stato moltissimo. Ci sono stati dei regimi politici che sono stati solo male assoluto. Il comunismo e il nazismo sono stati sostanzialmente dell'incarnazione del male assoluto. Mai come nel nostro secolo il male assoluto si è incarnato. Si è incarnato in tutto il mondo, non è vero. Non è che Tamerlano fosse particolarmente piacevole a conoscere. Nel nostro secolo si è incarnato con particolare intensità, semplicemente perché era sorretto sempre dall'ideologia. Il male assoluto non è mai tanto perverso come quando c'è un'ideologia, cioè c'è l'intelligenza che lo sostiene. Questo è accaduto specialmente nel nostro secolo, non nel nostro secolo, perché in casi di fanatismi tutti i secoli sono esistiti. Nel nostro secolo c'è stato invece il male sostenuto da un progetto della mente. Nel suo libro non c'è una vera prefazione, però tutto il libro è invece, al di là di una raccolta di saggi, ha un filo narrativo molto… Sono molti fili, non solo il filo del male, ci sono anche altri fili, molti fili. Certo. Io non ho messo una prefazione in cui tirare le fila per l'appunto, non volevo mettere la prefazione, perché volevo che fosse il lettore stesso a tirare le fila, fosse il lettore stesso a tirare le conclusioni. Siccome non soltanto a proposito del male, ma per esempio uno dei titoli, altri titoli del libro poteva essere le nuove mille e una notte, perché c'è la straordinaria presenza del mille e una notte arabo nella letteratura dell'Ottocento. Veramente la lettura delle mille e una notte incomincia nel Settecento, ma nel Settecento dell'Ottocento sono pieni di mille e una notte, sono specie di tentativi di trascrivere le mille e una notte nel mondo ottocentesco. Questo era un altro titolo. Poi un altro titolo ancora era Il viaggiatore incantato, che sottolineava il fatto che io sono incantato nel narrare questi mondi, ma mi sembrava un titolo troppo personale, troppo dolce. Che cosa vuol dire secondo lei, Calvino, quando le scrive, la tua negazione del nostro tempo vuol portare allo scrittore che definisca e inventi l'uomo del nostro tempo? E le parla poi, ma siamo nel 59, forse... Era molto giovane, era un saggio che ho scritto allora che si chiamava Ideologia e Verità, che io non ho più ristampato, di cui non sono per niente convinto. Comunque, di una cosa sono convinto, era un saggio contro... Era un periodo in cui Calvino era comunista e io non l'era affatto, ed era un periodo in cui era diffuso Adorno, lettura di Adorno, cioè quello era un tempo molto ideologico e io non sono mai stato neanche un bricciolo ideologico, di questo sono contento. Questo era il motivo di contendere fra di noi. Tenga conto che Calvino non lo era neanche tanto lui ideologico, allora lo era, e viveva in una casa, e dice completamente ideologica, in mezzo a gente completamente ideologica, insopportabile come Fortini, come Casas, gente così, e anche Solmi. E lui non lo era, nel fondo non lo era per niente, perché di fatti allora erano gli anni in cui scriveva il Fisconte di Mezzato, che è un'allegoria, una parabola settecentesca, ma non è certo nulla di ideologico. Qual è in questo senso la permanenza della scrittura? La permanenza della scrittura sta nel fatto che i grandi libri noi li leggiamo sempre, io ho letto Guerra e Pace, la Recherche, l'ho letto ognuno 5, 6, 7 volte, non mi ricordo più, la Recherche forse di più. E ogni volta è diversa, la permanenza della scrittura è la sua mutabilità, ogni volta abbiamo un libro nuovo, la Recherche che ho letto a 15 anni, non era la Recherche che ho letto a 30, non era la Recherche che ho letto a poco più di 60, cioè i libri mutano, non sono soltanto noi che mutiamo, sono anche loro che mutano, l'essenza dei libri è la loro infinita mutabilità. L'essere senza tempo? No, no, forse è il contrario, la loro temporalità, non è che il tempo dei libri sia, i libri cambino secondo i tempi che passano, i libri possono cambiare a rovescio dei tempi, possono camminare indietro, possono camminare avanti, hanno un loro tempo, che non è il tempo reale, è il tempo dei libri, che è di una mutabilità infinita. Certe cose al tempo stesso sono eterni, grandi libri si sa che sono eterni, almeno di quella piccola eternità che noi conosciamo, che noi possiamo avere, ma sono eterni e mutabili insieme. Ha dedicato gran parte della sua vita al secolo scorso? Mi sono occupato un po' di tutto, adesso scrivo un libro sull'Odissea che non è stato scritto nel secolo scorso per esempio, lo sto scrivendo proprio stamattina, ho finito un capitolo, ho finito il secondo capitolo e mi sono occupato un po' di tutto, non solo del secolo scorso. Ecco, come vede però il secolo che sta per iniziare o iniziato a seconda delle… cioè che tipo di visione del futuro si è fatto? Non ho alcuna visione del futuro, io manco completamente di capacità di intervinare il futuro, io so solo questo, che quello che accade è sempre diverso da quello che noi ci aspettiamo, questa è la bellezza della storia, il fatto che accade sempre una cosa diversa, nessuno vissuto nel 1945 avrebbe mai potuto indovinare quello che è accaduto in questi 55 anni, per esempio è accaduto il comunismo, chi l'avrebbe mai immaginato in quel modo, come un castello di case, chi l'avrebbe potuto immaginare? Accade sempre, questa è la novità, esiste, l'unica cosa in cui crede è la novità della storia, la perenne novità della storia, ci sono delle cose che ripetono e si ripetono in questa novità, certe figure che ritornano, che si reincarnano, però non si può mai descrivere il futuro, questa è una cosa di cui io almeno non sono assolutamente capace. Quindi non ci prova neanche a fare delle… Non ho alcun talento, penso che non si possa fare, penso che sia un errore e comunque io non so farlo. Rispetto alla scrittura di oggi a internet, ai computer, lei è molto lontano? Non so, non ho mai visto l'internet, quindi non ne so assolutamente niente, non so assolutamente nulla, ma non mi sembra che sia una scrittura tanto vecchia la mia, mi sembra che sia abbastanza abbastanza limpida, non mi pare, non è, mi sembra che sia una scrittura abbastanza moderna, non so cosa sia la scrittura, veramente non so bene cosa sia la scrittura, io penso che Calvino scrivesse una scrittura molto moderna, poi dicono che scrivono una lettura moderna, moderna anche Baricco, io mi rifiuto di credere che la scrittura di Baricco sia moderna, che la scrittura di Baricco è semplicemente orrenda, la scrittura di Baricco intendo del Siti, non di Seta, Seta è un libro carino, Siti è scritto in un modo orrendo, niente affatto moderna. Lei era uno stroncatore? Sì, ma non lo faccio più, ho tanti anni, tantissimi anni, ero stroncatore quando aveva 30 anni, ho fatto tante stroncatore dai 30 ai 35 anni. Hai sentito di qualcuna o no? Sì, qualcuna sì, qualcuna sì, ho sbagliato, per esempio ho fatto un pezzo, ma ero in 25 anni, 26 anni, sul titolo d'Arturo che era ingiusto, sul titolo d'Arturo dell'Amorante che era ingiusto, ne ho fatte parecchie di cui sono del tutto contento e convinto. Tutti i giorni lei fa un'attività che è assolutamente inconsueta, quella dello scrittore, che cos'è oggi il lavoro dello scrittore per lei? Ma è molto divertente scrivere, perché scrivere è il movimento, è l'unica, è la forma che prende il movimento nella realtà, è la penna che scorre, si fa muovere, la bellezza in un libro è il movimento che c'è dentro, l'imitazione del movimento, il movimento che c'è lì dentro e ogni mattina uno fa muovere 4 o 5 pagine delle cose, gli vengono delle idee, perché poi le idee, anche nei libri di critica letteraria, le idee migliori non vengono mai prima, ma si vengono appunti, vengono scrivendo. E lei scrive sempre a penna? Scrive sempre a penna. E lei scrive sempre a penna.